Moonrise Kingdom Quelli di Wes Anderson non sono film, ma storyboard. Stop! Vorrei vivere un film di Wes Anderson I Boy Scout, il giradischi, l'isola del tesoro, l'umorismo vintage Mamma, dito te tutto ha ritinto il fetto, ma tanto se tu ti intendi tanto i tetti ritinti, sa? rinchiusi in inquadrature che sono vignette Ma io un film non voglio sfogliarlo come foto filtrate da Instagram, voglio vederlo Stop! Attori blasonati, colorati e modellati, che però non si lasciano mai andare Stop! Nitenenbaum la plasticità funeria suscitava grande humor Magari non sai nemmeno qual è il mio secondo nome È una domanda tra bocchetto, tu non hai un secondo nome Ellen Con i dodicenni il trucco non gli riesce Stop! Lo stiloso Wes Anderson cita se stesso a ogni passo Vorrei vedere un film di Wes Anderson Inquadratura simmetrica Più che criticabile e immorale Stop! Ganno Ganno Dottima Grazie a tutti.